e probabilmente dovrà essere abbattito Ragazzi, è la delegazione ufficiale della Nazionale Maltese che stasera gioca contro l'Italia Modena e sono venuti a portarvi, tra virgolette, dei gadget e quindi dei qualcosa C'è anche un presente per le ragazze e quindi magari attività che magari si fa pallavolo basket femminile ce l'abbiamo Volevo solamente chiedervi se potete Importante per noi, siamo sempre sentiti i maltesi che siamo vicini agli italiani Adesso noi magari se vuoi facciamo una foto giusto per far vedere Questa c'è la taglieri, staviamo a un movimento 250 oscuro Le emergenze principali Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti